Sono passati esattamente 11 mesi da quando è iniziato questo nuovo format politico che è quello dei dipartimenti. Sono di fatto dei pensatoi attraverso i quali siamo riusciti a coinvolgere oltre 70 persone tra stakeholders, società civile, mondo dell'imprenditoria. Sono persone che tendenzialmente sono un corollario imprescindibile della politica ma spesso ne rimangono nei margini. Invece devono essere necessariamente coinvolti proprio per evitare che la politica resti un corpo estraneo rispetto alle realtà quotidiane e alle esigenze della provincia. Quindi abbiamo questo manifesto programmatico di sei punti che spiegheranno appunto come è la nostra visione della provincia di Varese nei prossimi anni.